ciao a tutti questa è la mia amica la mia amicina più piccolino si chiama maia ma è un po schiva è un po schiva non gli piace tanto essere coccolata lasciamo andare allora oggi vi chiederete il perché sono distesa qui in mezzo a un campo con delle tame volevo dirvi che insomma in questi in questi giorni dopo aver tagliato il grano ho pensato invece di ricorrere al pellet che di solito metto utilizzo il pellet che è l'etame liofilizzato ho pensato di mettere proprio l'etame bovino stagionato di una stalla che ho qua vicino è molto affidabile e quindi ho distribuito ho distribuito su tutta la parte dello stoppio l'etame stasera partirò per interrarlo perché dovrò interrarlo il più presto possibile verrà estirpato tutto il terreno e poi passerò una leggera aratura verrà lavorato pronto per la coltivazione del prossimo anno adesso vi farò vedere come è stato l'etamato e poi speriamo di aver fatto cosa buona così consigliamo la nostra terra non c'è niente di meglio che un po' di puta di letame per non c'è niente di meglio se vi è piaciuto il video mettete un like se volete seguitemi anche sui miei social e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao